Il cinema come strumento di educazione e promozione di particolari tematiche a sfondo sociale. Nella sala consigliare di Crispiano si è tenuto in questi giorni un laboratorio cinematografico nell'ambito del cartellone di iniziative del Be Green Festival, giunto alla sua seconda edizione e che quest'anno si estende anche al comune di Ceglie Messapica, ma che conserverà il suo fulcro a Crispiano. Oggi il cinema diventa uno strumento di promozione del territorio, ma anche di educazione per le giovani generazioni, soprattutto rispetto a tematiche particolari. Assolutamente, è strumento di aggregazione e di condivisione. Credo che il cinema può essere uno strumento per fare comunità. Abbiamo l'esigenza di, da un lato, coinvolgere i giovani e i giovanissimi, educarli sia al linguaggio del mezzo cinematografico, ma anche, io dico, a educarli a fare rete, a fare squadra, a essere propositivi, a tirare fuori i contenuti, perché i ragazzi hanno tanti vuoti che vanno riempiti e quindi noi siamo consapevoli del fatto che questo può essere uno strumento. Quello di creare un festival è anche il modo per ampliare il discorso comunitario all'intera popolazione, a chiunque vorrà partecipare. Anche quest'anno torna il festival del Big Green. Sì, esatto, torna il Big Green nella sua seconda edizione, abbiamo tantissimi ospiti, tanti eventi. Cominciamo il 23, giovedì 23 a Ceglie Messapica, con una prima anteprima alle 18.30, con la serata di proiezione dei film di animazione. Ma poi il cuore del festival si sposta a Crispiano, venerdì 24 e sabato 25.